Emanuele. Sapevano bene che a quell'ora in casa, in pieno centro a Venafro, non avrebbero trovato nessuno. Hanno preso oro e soldi, ma poi qualcosa è andato storto. La figlia dei proprietari di 19 anni è rincasata, costringendoli a scappare. La ragazza, terrorizzata, ha urlato, ha suonato i campanelli. I ladri l'hanno spinta, facendola cadere per le scale. Lei ha tentato di rialzarsi, ma è stata presa a pugni. La loro fuga non è però passata inosservata. Alcuni cittadini hanno segnalato l'auto e il numero di targa alle forze dell'ordine. Alle porte di Sernia i tre rapinatori sono stati bloccati. La volante riesce ad intercettare l'auto dei ladri in fuga e al contempo riesce a dare la nota alla sala operativa che permette la conversione di tutte le autoradio presenti sul territorio. Nasce un inseguimento a folle velocità, si riesce a bloccare i ladri in fuga, non sapendo se fossero armati, quindi si sono dovute adottare tutte le tecniche per diciamo neutralizzarli in sicurezza e una volta bloccati poi si è proceduti al fermo e al controllo dell'auto e sono stati condotti in questura e sono stati fatti tutti gli accertamenti. Le tre persone fermate, di età compresa fra i 29 e 47 anni, tutte originarie di Napoli e già note alle forze dell'ordine, sono state rinchiusse nel carcere di Sernia. Nei loro confronti sono stati ipotizzati reati di rapina, lesioni aggravate e possesso di arnesi da scasso, determinante per la buona riuscita dell'operazione il gioco di squadra tra le forze dell'ordine. In questa operazione dimostra la piena sinergia con la quale operano in provincia di Sernia tutte le componenti della Polizia di Stato. Questo elemento è facilitato dal fatto di avere, ed è una particolarità di Sernia, una sala operativa comune in cui operano fianco a fianco l'operatore della questura con l'operatore della Polizia Stradale. Nel caso di specie ha consentito di effettuare gli immediati accertamenti che hanno portato all'intuizione su quella che poteva essere la direzione di fuga dei rapinatori e successivamente il coordinamento delle pattuglie su strada per bloccarli ed arrestarli. Intanto le indagini da parte degli uomini della questura proseguono. I furti messi a segno negli ultimi tempi tra i Serni e Venafo presentano molte analogie tra loro. Sono persone che vengono da fuori, persone che non vengono però a caso, nel senso che sanno dove colpire. Per cui questo presuppone a monte uno studio degli obiettivi, se sono più o meno vulnerabili. Abbiamo visto ad esempio che per quanto riguarda l'Isernino le contrade rurali sono state prese di mira, mentre per quanto riguarda il Venafrano riescono a intervenire proprio in città. non sono dei soggetti che agiscono isolatamente, nel senso che sono sempre in un numero cospicuo che gli consente di avere uno che gli fa da palo e altri che agiscono materialmente.